Ciao amici e bentornati! Oggi prepariamo insieme una torta cioccolatosissima senza le uova. La torta al cioccolato senza uova è uno dei miei dolci preferiti. È facilissimo da realizzare, veloce ma super super goloso. Perfetto per grandi e piccini, per colazione oppure per merenda. E soprattutto si prepara veramente in 5 minuti. Gli ingredienti che ci occorrono sono 200 g di farina 00 50 g di cacao in polvere 100 g di farina di mandorle 150 g di zucchero semolato 250 ml di latte 60 ml di olio di semi di girasole Una bustina di lievito per dolci Un pizzico di sale La scorza grattugiata di un limone E per ultimo delle gocce di cioccolato La quantità in base ai gusti Cominciamo a setacciare la farina 00 E la mettiamo nella nostra planetaria Aggiungiamo anche la farina di mandorle Lo zucchero semolato Il lievito E un pizzico di sale Il cacao in polvere Mescoliamo insieme le nostre polveri Possibilmente non fate come me E coprite la planetaria con un panno Mescoliamo latte e olio E versiamo tutta la parte liquida nel nostro impasto Aggiungiamo le gocce di cioccolato E la scorza grattugiata del limone Mescoliamo bene il tutto Mescoliamo bene il tutto per qualche minuto Finché tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati nell'impasto Imburriamo e fariniamo una tortiera del diametro di 22 cm Ecco la nostra torta Ricopriamo con delle gocce di cioccolato abbondanti sulla superficie Inforniamo a forno già caldo, statico, 180 gradi Per 35-40 minuti Dipende sempre dal forno Fate quindi sempre la prova con lo stuzzicadenti Ed ecco la nostra magnifica torta cioccolatosissima Senza uova né burro appena sfornata Non potete capire che profumo c'è in casa Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like Oppure scrivetemi nei commenti Noi ci vediamo Alla prossima!